ad ogni giro cambiate se volete quattro giocatori in quattro contro quattro Mario Baby Mario, no, 5 a 6 e la principessa si affrontano questa festa, quiz arcade, è partita la nata di Bernice contro lo scherzo forza ragazzi, l'ultimo giro, qua arriviamo alla torta giallo con giallo, colore con colore, verde tutta a sinistra ultimo minuto ma non fanno un tiro in porta player, devi premere e poi quando carica la barra lasciare 37 secondi